un aspetto molto famoso nel mondo di hong kong è la presenza di impalcature guardate qua guardate quante grande questo palazzo e sapete in che cosa è fatta questa impalcatura totalmente di bambù tutto il palazzo è costruito sulla base di impalcature realizzate in bambù è una roba da non crederci guardate qua c'è adesso adesso vi faccio vedere che è bambù veramente la prima volta che sono da hong kong tanti anni fa pensavo fosse finto tant'è che sono da toccarlo questo è bambù ora qui la prima volta che sono venuto qua che l'ho visto pensavo fosse finto capito è tra l'altro tutto montato non con i giunti di ferro sui tubi innocenti con lo spago di plastica con lo spago di plastica tipo filo di lega si è un filo di lega mamma mia ci guardate qua l'ho fatto vedere infatti quanto è alto poi no tutto il palazzo costruito così quindi ogni palazzo che quando vedete che devono ristrutturare che fanno i lavori fanno l'impalcatura con il bambù cioè tra l'altro bisogna essere anche capaci a costruirla perché è un'altra cosa che fa sanno è pure il strutto che non è che non è esatto non c'è niente si appoggia guarda questo no però capisci quanto questi si guardano tutti come degli alieni come per dire ma questi che che stanno guardando è ragazzi noi siamo abituati a vedere le impalcature coi tubi innocenti no col bambù bambù che però ha una forte resistenza e flessibilità e quindi anche per fare queste anche impalcature del genere questo è impressionante tra l'altro e non è tra l'altro tra le più grosse sono ancora più grossi noi che veniamo da dove ci mettono le persone a tokyo mettono sempre qualcuno per la strada quando ci sono i lavori cioè per farti passare da dove è possibile passare solamente lì e ci mettono qualcuno che invece creano queste strutture in bambù gigantesche a questo è bello grosso credibile che vendono qua takoyaki va c'è takoyaki egg puff quello l'ho visto prima nel ristorante dove eravamo va bene adesso usciamo di qua c'è anche figlio spinato si come detto prima le impalcature in bambù a hong kong ci vediamo la prossima video da hong kong ciao